Salve ragazzi, allora facciamo questo video qua da fermi. Allora ragazzi, ovviamente ieri è successo quello che non doveva succedere, ossia Bologna-Milan ritardata. Una vendettina da parte di Marotta o tutto ciò che è successo così da anni rapporti che è con l'Andrangheta? Oppure tutto ciò che è successo unicamente perché il sindaco di Bologna ha perso voti e doveva recuperare in un modo e quindi di conseguenza ha dovuto far sospendere Bologna-Milan perché doveva fare una nuova campagna, insomma vabbè, altre cose. Con la scusa delle alluvioni a Bologna. Allora, premetto che io sto vicino alle persone di Bologna o degli zii là, quindi io sto vicino ai bolognesi per questa cosa delle alluvioni. Ma la partita si poteva fare benissimo in un'altra parte. Tu, per il fatto che perdi l'incasso, che ti serve per la tua futura campagna o quel che cazzo è, insomma, perdi soldi nell'incasso, ti sei rifiutato di far rispettare le regole, sospendendo la partita senza dire nulla. La Slega Serie A gli ha detto, ma come ti permetti? Quando la paesi deve giocare non puoi sospendere quando vuoi tu. Hanno fatto l'incontro e è uscita fuori dalla cosa a ragione il sindaco. Ma che razza di Lega sei? Sei corrotta! Tu sei la Lega corrotta, altro che Lega Serie A. Lega corrotta, ecco cosa sei tu. Il Milan-Mao sospeso per questo turno a causa vostra. Mannaccia, è il Milan-Napoli senza De Hernandez e Reinders. Bene, alta penalizzazione in arrivo. Bravi. Perché non chiamate direttamente Bayron Moreno l'arbitrare, già che ci siamo? Eh? Chiamate Bayron Moreno, già che ci siamo. Veramente, io non so che dire. Faccio questo video breve perché... Non scusate se sto sul computer. Perché veramente non so che dire. Siete patetici. Io non ho mai visto un campionato più pagliaccio del nostro. Cioè, siete dei pagliacci con la P maiuscola. Pagliacci, sì, mi avete capito bene. Pagliacci. Ladri, corrotti, chiamatevi un po' come cazzo volete voi. Cioè, veramente io sono allibito. Io sono basito anzi. No, non allibito, sono basito. Ve lo dico io che cazzo avete in testa voi. Il nulla assoluto. Ecco che avete. Ah, e mi fanno morire quei milanisti che dicono, è però l'alluvione a Bologna, le alluvioni un par di palle. Si poteva giocare a porte chiuse. E gli incassi li tenevate senza restituire nessun soldo nel biglietto. Perché siete troppo vigliacchi per infrangere la legge quando, diciamo, farebbe comodo alle società di Serie A. E siete troppo vigliacchi quando si tratta di farle rispettare. Siete vigliacchi a prescindere. Comunque, si dovete giocare la partita perché la legge impone che queste cose, per questi motivi, non si possono sospendere le partite. Si dovrebbe giocare in campo neutro. Io mi auguro, vi meritate un bel 4-0 per il Milan. Me lo meritate dopo quello che avete combinato. Ah, dimenticavo. Per quello che hanno detto i bolognesi contro alcuni nostri tifosi, ve lo dico, gemellaggio col Bologna ufficialmente rotto. Scusa, zio Stefano, però veramente mi spiace, zio. Non si può fare. Rotto ufficialmente il gemellaggio col Bologna. Non li guferò in Champions o altre cose, tranquilli. Ma non ho più rapporti d'amicizia con i bolognesi, tranne mio zio, che ovviamente è mio zio. Quindi, insomma, è anche il mio zio a Bologna. A parte questo, non ho rapporti col Bologna. Mi dispiace, non vi simpatizzo più. E Bologna-Inter del campionato fa 1. Avete vinto, bravi. Ma per colpa, cioè per merito vostro, cioè alla fine non mi interessa. Non l'avete fatto per noi, non è mai stato motivo di gemellaggio. Non l'avete mai fatto per farci vincere. L'avete fatto per voi stessi, come è giusto che sia. Quindi non vedo motivi di continuare i gemellaggi e cose inutili. Bene, è stato un vero dispiacere. Io me ne vado. Grazie mille. Grazie mille.